Grazie Gabriele, è anche un'emozione essere qui, una ragione di felicità, anche perché siamo qui incarnati, che era una cosa che attendevamo da tanto tempo. Allora, rovesciare la piramide. La classe dirigente attuale credo che non sia proprio in grado di concepire le piramidi, cioè il sublime estetico che c'è nella piramide. Però bisogna ricordarci che le piramidi sono delle tombe. Io penso che il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di trasformare questa piramide oligarchica nella tomba politica, si intende, di questa classe dirigente mefitica. In realtà sono 30 anni circa che la politica in Italia non c'è, perché non crede più a niente. E' una politica anichilistica fondamentale. E' la politica dell'amministrazione del condominio, quindi va bene tutto. E' la politica, hanno trasformato anche lo Stato in questo, funzionale al neoliberismo, cioè all'unica ideologia che è pretendere di avere diritto di cittadinanza. E che nega però la possibilità di immaginare alternative, quindi anche di confliggere e quindi anche di poter scegliere diversamente. C'è il pilota automatico, votate, votate, tanto è inutile. Però questo non l'ho detto io, l'ho detto che adesso è al governo del paese senza alcuna legittimazione politica e democratica. Il coronavirus, che ci ha riguardato purtroppo, ancora ci riguarda, quest'anno e mezzo, è come l'euro. Cosa voglio dire? C'è pazzo. No, io sono profondamente convinto di questo. Nel senso che il coronavirus, come l'euro, è stato trasformato in un assoluto indiscutibile. Per decenni non si è potuto parlare dell'euro, ora un po' sì, anche perché sono talmente tante le opere, gli scritti in cui si mette in luce che ci sono delle ragioni asimmetriche, di contraddizione strutturale al proprio interno, per cui accademicamente si può anche parlare. Ma appena diventa un fatto politico, vedete la vicenda del veto a Savona, che non è una cosa derubricabile così, con una satina di spallucce. Sono i momenti decisivi della storia di questo paese, e se ne possono indicare anche altri. Beh, no, il messaggio è che questa questione non può essere un'agibilità politica. E oggi il coronavirus, io non sono tanto d'accordo sul fatto che non bisogna parlare del Green Pass, perché è una vergogna. È una vergogna che segna una deriva antidemocratica intollerabile. Io ancora non ho trovato una persona che mi abbia detto perché una categoria ampia di cittadini che esercita liberamente un diritto di scelta, in assenza di obblighi o di vieti, debba essere discriminata, togliendoli o limitandoli fortemente i diritti. Questo significa calpestare al fondamento principi elementari di civiltà giuridica e direi persino di razionalità. Non ho trovato un argomento decente rispetto a questo. Ho trovato molto arrampicarsi sugli specchi che francamente mi suscita grande imbarazzo e anche amarezza. E non voglio citare i nomi purtroppo, alcuni sono anche amici, o lo erano forse. Quindi c'è un nesso, c'è un nesso perché è la solutazione fondamentalistica di qualcosa di cui non si può discutere e ci sarebbero mille cose da dire, il tempo non c'è, ma ci sarebbe molto da dire su entrambi, sull'euro e sul coronavirus. E dall'altra è l'uso politico e mediatico che serve a creare una nuova forma di governo, tecnopolitica emergenzialista, che nega la democrazia. Bisogna metterselo in testa finché non capiamo che c'è una neutralizzazione strutturale di fatto della vita democratica e anche oggi dello Stato di diritto. Io sono conventissimo di una tesi che sono contento di averla scritta tempo fa. Perché almeno lo studioso si prende la soddisfazione di dire cavolo, avevo intuito una cosa, si comincia, si è cominciato con i diritti sociali, si prosegue con i diritti politici, cioè con la sovranità democratica che è disattivata in Italia da un sacco di tempo e si finisce con i diritti civili e le libertà, anche quelle classiche, tradizionali. Il più grande nemico del liberalismo persino, della liberal democrazia, e io vorrei qualcosa di più, vorrei una social democrazia, è il neoliberismo. Peraltro, alcuni studiosi intellettuali seri, liberali, questa cosa l'hanno capita da tempo. Però, però, certamente chi non l'ha capita è chi difende l'Italia dal vincolo esterno, bisognerebbe fare un lungo discorso, il tempo non c'è. Io sono convinto che tutta questa storia, che segna la profonda decadenza italiana, non è solo l'Italia, ma l'Italia è all'avanguardia, come laboratorio della decivilizzazione, della negazione della democrazia e come laboratorio, diciamo, del degrado fondamentalmente, perché è un fatto proprio generale. Il posto dove c'era una politica autonoma è stato trasformato nel posto dove non c'è nulla di politica, nulla. C'è il grado zero della politica e c'è il dominio. Non c'è politica, ma c'è dominio. Noi siamo assoggettati a un dominio insopportabile e odioso. Il fatto che si manifesti in forme tecnocratiche e con una vocettina non cambia la natura di questo dominio. E il fatto che ci sia un coro immondo intorno di gente improponibile che dovrebbe vergognarsi intellettuali e mondo mediatico, giornalisti, che segna proprio una... Altro che riforma intellettuale e morale, come diceva Gramsci, è proprio una decadenza profonda intellettuale e morale. Un conformismo, un'omologazione, un servilismo ripugnanti. Ecco, il fatto che ci sia tutto questo non muta le cose. Una cosa non è meno vera se tutto l'establishment e dice che invece è vera. Anzi, dovremmo francamente farci una riflessione su queste cose. Cioè, dovremmo anche dirci che bisogna proprio avere uno... come dire... scrollarci di dosso la paura e avere il coraggio di dire che il re è nudo. Di dire che quello che viene veicolato come vero, assoluto, è semplicemente il falso. Io penso questo, che in giro di gente, tendenzialmente gente reale, non non morti. Io li chiamo i non morti. I non morti sono quelli che non sono nemmeno mai incarnati. Chiaro? Gli zombie. Quindi con quelli non ci si può fare niente. Di gente reale, incarnata, che ha capito come stanno le cose e ce ne sia parecchia. Il problema vero è quello che mi ha detto una signora al mare qualche tempo fa. Ma mi è capitato un'infinità di volte. Mi è capitato soprattutto con gli studenti. Sì, ma chi ci rappresenta? Dove andiamo? Chi ci organizza? E in questo c'è una specificità italiana. Perché è vero che non è... Per carità, quello che è accaduto nel mondo, soprattutto in Occidente, l'ultimo anno e mezzo, è molto significativo e indicativo. Ma c'è una specificità italiana. Perché in Francia i sindacati sono in piazza a lottare. Qui no! Sono a svendere diritti elementari. Mi costa fatica dirlo. Però bisogna dirla la verità. Quindi come si ricostruisce questa alternativa? Perché c'è il bisogno di un'alternativa. C'è un pezzo di paese, nemmeno piccolo, che non è rappresentato. Certo, lo si fa in un modo solo, con il coraggio, appunto, con il senso della coerenza e della verità e cercando di far crescere un vento che spazi via il puzzo, come lo chiamava Paolo Borsellino, di una classe dirigente mefitica. La frutta, in realtà, disperata e per questo incattivita. È l'incattivimento del neoliberismo che sta portando a questa stretta, profondamente antidemocratica. E con la forza, però. La forza vuol dire che, appunto, bisogna capire come si fa, una volta che hai chiaro l'obiettivo, a portarlo avanti pezzo per pezzo. Perché è vero che dopo due anni e mezzo dell'ultimo risultato elettorale, con tutti i limiti, c'è un governo che è esattamente l'opposto di quello per cui avevano votato gli italiani. E questo vuol dire che c'è un problema grande di alleanze, di contesti, di potere. Non bisogna avere paura di usare la parola potere. Se si vuole contrastare il potere che c'è, dobbiamo costruire un'energia politica, una forza e un potere nostro, che ha anche con realismo sposti i rapporti di forza. E imponga perlomeno un compromesso, che credo sia al massimo che si può fare oggi. Altrimenti saremo schiacciati. Questa è una ristrutturazione del capitalismo. La posta in gioco è mantenere in piedi un sistema che in realtà ha fallito e ha la frutta e che temo, mostro che mi sembra anche ottimista, io sento venti di strategia della tensione sullo spread, sento discorsi sul debito, fra poco ci verrà chiesto il conto. Prepariamoci, il conto significa, non hai detto che crolli in parcatura dell'euro, ma significa se la volete tenere in piedi, e tanto voi la volete tenere in piedi, no perché siete autolesionisti, come mi disse una volta Wolfgang Strecchia che aveva invitato a Napoli ai suoi studi filosofici, ma io non capisco che voi italiani state facendo questo. Perché siete così autolesionisti? Il nuovo autolesionismo, il nuovo capitolo sarà ancora più feroce di quello precedente, perché implicherà dettagli feroci a quello che è già distrutto, lo stato sociale. Questi ci raccontano, non voglio manco nominarlo quello là, che stanno ricostruendo la sanità, che fanno tutto in nome della sanità, hanno dato un contributo fondamentale a distruggerla. Loro! Loro! Ed è intollerabile che chi ha distrutto lo stato sociale, in nome dell'Europa, ha contribuito in maniera decisiva. Adesso si faccia pure bello e si copra di moralismo senza morale. Ecco, quello che abbiamo bisogno è di un senso etico-politico vero e non del moralismo senza morale. Grazie. 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 Grazie.